Tripice omicida aggravato e quanto contesta la procura di Roma a Gian Davide De Pauca risposta agli inquiretti nel corso dell'interrogatorio fiume in questura oltre sette ore di domande di costruzioni alle quali il 51enne non si è mai sottratto dicendo di aver incontrato le due cinesi, di ricordare tanto sangue, poi il blackout, di aver girato per due giorni sporco di sangue fino a tornare dalla mare e dalla sorella di essere stato portato via dai poliziotti alle sede del mattino. La stessa sorella che non conferma di avere chiamato le forze dell'ordine risponde con un eloquente i fatti parlano da soli ma se De Pau parla dei via Riboti, delle due cinesi, di avere provato a tamponare la ferita alla gola di una delle due donne dice di non essere stato mai in via Durazzo e risponde perché negare un terzo omicidio visto che me ne contestate due? Si sono aperte le porte del carcere di Regina Cerri per l'uomo in passato autista del boss Michele Senese con cui venne immortalato nella stessa foto. Problemi di droga, una violenza sessuale contestata e a quanto pare in cura psichiatrica da tempo unitamente ad un percorso farmacologico e due ricoveri alle spalle in strutture psichiatriche.